Si è venuta la mattina presto per donare il sangue, è una cosa importante, lo fai da tanti anni? No, ho fatto la prima volta due anni fa e poi l'anno scorso ho saltato e adesso di nuovo. Cosa ti spinge a donare il sangue, quindi a svegliarti presto la mattina prima di andare a lavorare e venire qua? Perché io sono zero negativo e il mio gruppo è molto raro e può prendere soltanto questo tipo di sangue. Quindi praticamente sei una di quelle poche che ha questo gruppo sanguigno e vuoi che anche gli altri possano beneficiare del tuo gesto, che è un gesto molto importante. Quindi prima fai questo gesto veramente bello e poi vai a lavorare dove la tua attività colpi di testa perché sei una parrucchiera. Sì, certo, lo faccio davvero con il cuore per aiutare il prossimo. Allora, una ragazza che insomma donna il sangue, quindi dei giovani che donna il sangue è una cosa positiva. Lanciamo un messaggio per tutti i ragazzi e soprattutto a essere disponibili verso l'altro. Allora, donare significa aiutare, quindi consiglio a tutti i ragazzi di fare questa esperienza perché poter aiutare gli altri è un gesto bellissimo. Allora, donare significa aiutare, quindi consiglio a tutti i ragazzi di fare questa esperienza.